Oggi e domani, in occasione delle giornate di Pasqua e Pasquetta, rimangono in vigore su tutto il territorio nazionale, tranne che nelle zone bianche, le restrizioni anti-Covid previste per la zona rossa. Oggi e domani, tra le 5 e le 22, si potrà fare visita a parenti e amici una sola volta al giorno, in una sola casa privata all'interno della regione, spostandosi in due persone. Si possono portare minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti. Per Pasqua e Pasquetta, gli scienziati raccomandano di non ospitare a pranzo più di due persone al di fuori del nucleo familiare ed indossare sempre la mascherina. Non si possono organizzare picnic e grigliate. Gli spostamenti in zona rossa sono consentiti solo per lavoro, salute e necessità con autocertificazione, consentito il ritorno a residenza, domicilio o abitazione. Rimane tuttavia un'incognita legata alle visite ai cimiteri. Nel decreto del governo Draghi non vi è infatti alcuna voce specifica sull'argomento. Le forze dell'ordine hanno spiegato che in linea teorica è possibile recarsi presso un camposanto o anche spostandosi dal proprio comune. Sarà sufficiente portare con sé l'autocertificazione. Lo spostamento verso una seconda casa di cui si ha la proprietà o l'affitto lungo prima del 13 gennaio 2021 è sempre consentito unicamente col nucleo familiare e se non sono abitate da altre persone. Si possono raggiungere le seconde case anche in un'altra regione e anche in zona rossa. Ci sono però alcune regioni che hanno emesso ordinanze che lo vietano espressamente. Per quanto riguarda i locali, bar e ristoranti saranno chiusi. Nei bar è consentito l'asporto fino alle 18, nei ristoranti fino alle 22. Sempre consentita invece la consegna a domicilio. Chi usi cinema, teatri, palestre, piscine, centri sportivi, chi usi i negozi, anche parrucchieri, barbieri e centri estetici, aperti i servizi essenziali. Fare sport è consentito solo nel proprio comune dalle 5 alle 22 in forma individuale e all'aperto mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Chi fa jogging o va in bici può uscire dal comune pur che vi faccia poi ritorno al termine dell'allenamento. Rimane consentito andare a messa scegliendo il luogo di culto più vicino a casa. Continua infine a far discutere la possibilità di viaggiare all'estero per turismo in alcuni paesi, mentre nei confini nazionali l'attività turistica non è consentita. La nuova ordinanza del ministro Speranza, in vigore fino al 6 aprile, dispone tampone isolamento fiduciario per 5 giorni e altro tampone per chi arriva o rientra in Italia da un paese dell'Unione Europea, per chi è stato in nazioni che non fanno parte del sistema Schengen, isolamento di 14 giorni. Grazie. 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 Grazie.